Ciao a tutti, questo è un nuovo canale, io sono Paolo di Corrado Come state? Come è tutto a posto? Mettete un like, mettete un like Forza Juve però, forza Juve Se dico da Juve devo mettere un like Vabbè, un like Se non fate Juve, mettete un like Arrivederci, ci vediamo al prossimo video